Siamo tornati in diretta, ero un attimo concentrato sul mio dispositivo con il quale ci interfacciamo con la regia che mi fa sapere che è pronto il nostro primo video collegamento di oggi. Abbiamo un ospite speciale in collegamento da Termoli, lo state vedendo a tutto schermo, è Fra Italo Sant'Agostino. Buongiorno Fra Italo, ben trovato! Carissimi, buongiorno a voi, buongiorno Tony, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un piacere oggi giocare in casa per me, posso dire così. E sì, sei nella tua città natale alla quale ti legano ancora tante belle radici, le affetti ma anche le amicizie e proprio grazie ad un invito che ti è giunto dai tuoi amici, oggi sei lì per partecipare alla seconda edizione del Comics & Games nella città di Termoli. Di cosa si tratta, Fra Italo? Ecco sì, diciamo che sono in una Termoli che non si è ancora svegliata del tutto, no? Alle mie spalle c'è il Castello Svevo, uno dei simboli della cittadina e sotto vediamo gli stand già pronti perché queste strade già da partire alle 17 pulveranno di giovani, di ragazzi, tutti attratti da questo mondo dei fumetti e dal mondo del gaming, i videogiochi. Io sono stato invitato a partecipare ad un evento che fa parte quindi di tutti i tanti eventi della manifestazione, proprio questa sera nella piazza principale della città ed è un salotto, possiamo dire così, che mi vedrà insieme ad altri influencer, quindi protagonisti del mondo di internet a parlare della religione e dello spazio che la religione ha sui social, se è giusto che ce l'abbia qual è la maniera più efficace magari di trasmettere questo messaggio, se abbia ancora senso ai giorni nostri. Ecco, intanto la regia ci proponeva anche il sito ufficiale della manifestazione, un sito molto carino che ha un sapore vintage, ma come ci dicevi tu, i talk, i tanti eventi che si svolgeranno nella città di Termoli sono invece assolutamente super moderni al passo con i tempi e sono curioso, sarei curioso di vedere come ti destreggerai in mezzo a questi influencer, se riesco quasi quasi stasera faccio un salto a Termoli. A che ora è prevista la tua chiacchierata al festival? A partire dalle 19, diciamo tutto l'evento inizierà alle 17 con l'apertura da parte dei due organizzatori Mario Palladino e Nicola Parnieri, che su internet sono conosciuti come Sinergo e sul canale Quei Due Sul Server e loro hanno iniziato così, insomma, cercando di portare la loro passione che era quella dei videogiochi e facendone una professione. Hanno avuto un grande seguito. L'anno scorso questa manifestazione ha visto un passaggio di 50.000 persone, insomma, tutte interessate a queste realtà e quindi, Tony, io ti aspetto magari, aspetto anche voi per fare anche un po' di tifo perché non saprò neanche io che cosa potrà succedere e quali saranno anche le domande, le provocazioni che arriveranno anche dalla piazza e anche dal parco. Grazie. Magari faccio una macchina con Leonardo Fania, che è dall'altra parte dello studio e che sta condividendo con noi oggi notizie ed aggiornamenti. Leonardo, sei impegnato stasera? Purtroppo sì, c'è il compleanno di mio papà, quindi... Ah, mannaggia. Auguri, auguri al tuo papà, auguri al tuo papà. Grazie a te. Diamo lì la priorità. Tanti cari auguri, ne approfittiamo per fare gli auguri di buon compleanno al tuo papà. Fraidolo, vediamo che anche su Termoli c'è questa cappa di calore che sta caratterizzando... Termoli c'è sì, anche qui una cappa terribile, però insomma le persone continuano comunque a sfilarla, quindi cercano un po' di ristoro sulle spiagge. Ve le sto mostrando adesso che non sono ancora pienissime, ma per l'orario diciamo ancora un buon numero. Assolutamente sì. Beh, fortunato chi ha il mare a due passi, può andare quantomeno a rinfrescare anche i piedi, a passeggiare sulla battigia. Dunque, noi ti ringraziamo per questo collegamento fra Italo e invitiamo quanti sono nella zona di Termoli a partecipare alla seconda edizione del Comics & Games e auguriamo a te un buon talk. Se non dovessi riuscire a raggiungerti, poi ci racconterai magari tu stesso come è andata. Va benissimo, grazie di tutto, buona giornata e buona prosecuzione. Grazie. Grazie.